Comincia qualcosa di inaspettato. Rimetti in gioco le tue certezze. Supera i vecchi confini. Scegli. E scegli di guidare oggi la tecnologia di domani. Toyota CHR. Oggi tuo con nuovo Hybrid Bonus fino a 6.000 euro. Scegli di non aspettare. E con regolare manutenzione presso la nostra rete hai la garanzia Toyota Hybrid Service fino a 10 anni. E con regolare manutenzione presso la nostra rete